Se a settembre mi avessero detto che alla ventinovesima giornata la classifica sarebbe stata Napoli-Lazio-Roma, mi sarei messo a ride e credo anche tanti altri di voi. Detto ciò, prima di tutto buona Pasqua. Mi sto prendendo dieci minuti per digerir un attimo perché immagino che oggi sia un po' il destino comune quello di avere tipo un peso insostenibile sullo stomaco. Quindi passiamo al dunque. Chiacchierata post giornata di campionato, come al solito, dedicata alla Corsa Champions che si fa intrigante, si fa imprevedibile in attesa dell'ormai attesissimo risponso legale sul ricorso della Juve che arriverà a giorni e che ci farà scoprire un po' che piega prenderà questo campionato dopo l'esito appunto del ricorso. La classifica parla in maniera inequivocabile di una Corsa Champions ancora lontanissima dall'essere definita perché parto così oggi Napoli 74, Lazio 58, Roma 53, 1052 a segnare i primi quattro posti. Seguono Inter al 51, Atalanta a 48 e Juve a 44 che è in questo momento lontana dal piazzamento più ambito, quello della Champions League ma con i 15 punti, se dovesse riceverli, andrebbe a 59 quindi al secondo posto davanti alla Lazio con il Milan che scavallerebbe al quinto posto. Allora, è stata una settimana molto particolare perché il Napoli, vabbè, ha vinto l'ennesima partita un po' più di difficoltà rispetto al solito però, insomma, squadra che ha la testa chiaramente come dargli torto alla Champions League che peraltro credo abbia condizionato più di qualcuno in questi giorni perché le milanesi, come adesso vedremo, hanno stentato parecchio ma appunto il Napoli continua la sua corsa serena verso lo scudetto con la testa altrove e questa settimana stavo pensando magari, visto che si tratta di derby italiano, di vedermela come si deve così poi magari ne parliamo subito dopo comunque sia segue poi Salernitana e Inter voglio andare più o meno in ordine una partita specchio del periodo terrificante degli amici interisti perché è una partita in cui l'Inter avrebbe avuto le occasioni di ma invece poi arriva il cross di Candreva che riesce a trovare il gol della domenica e va a mettere l'ultimo chiodo sulla bara della sanità mentale degli interisti ecco, in questo periodo stanno vivendo veramente una serie di partite senza la minima logica a vederle errori senza senso sottoporta sviste clamorose che poi svista, alla fine può capitare certo subire un gol come quello di Candreva è abbastanza è abbastanza surreale in una partita come quella in una partita come quella perché non è che ti lo sai cioè, se l'Inter l'avesse vinta non si sarebbe scandalizzato nessuno pareggiarle in quel modo compromette ulteriormente un percorso e un ambiente un periodo non proprio serenissimo Inter che anche lì però parliamo di testa magari un po' lontana dal campionato e rivolta più alla partita che avranno con i portoghesi il settimana un Inter che in questo momento è fuori dal blocco delle quattro ma di un punto solo potrebbe rientrare in gioco in qualsiasi momento è un po' il discorso per cui non mi sento neanche di dire ah la Lazio ormai niente come dicevo ieri ormai niente magari fosse ma ormai ancora non è una parola che si può usare secondo me però appunto Inter che continua a questo periodo no che potrebbe invertirsi grazie alla Champions ipoteticamente dovesse arrivare una bella vittoria all'andata sarebbe sicuramente un bel segnale di ripresa però c'è evidentemente qualcosa che non quadra a livello proprio di convinzione di consapevolezza cioè un Inter troppo troppo timorosa io ogni volta che vedo giocare l'Inter percepisco l'ansia e quando in una squadra di calcio percepisci l'ansia vuol dire che effettivamente qualcosa non va ora la causa non la so chiaramente credo sia più di una non solo per le soluzioni semplicistiche in questi casi però è evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto è evidente che Inzaghi non sta riuscendo a tenere un po' unita la truppa in un momento delicato un Inzaghi che io lo dico con grande franchezza al di là della della non più grande simpatia però è un allenatore che secondo me tatticamente ha grandissimi valori a livello di gestione dello spogliatoio nei momenti un po' più complicati tende a mancare e gli anni della Lazio si sono visti i momenti in cui bisognava un po' serrare i ranghi la Lazio di Inzaghi tendeva ad avere qualche difficoltà a volte fermo restando che poi nella partita in cui ti stai a giocare la partita secca le squadre di Inzaghi entrano in stato di grazia però è un allenatore strano da un punto di vista umano cioè da un punto di vista di gestione mentale del gruppo è un allenatore parecchio strano che credo e mi auguro per lui possa affinare un po' certe sue caratteristiche negli anni per migliorare al di là di tutto insomma la riconoscenza per ciò che fu c'è sempre al di là della simpatia un po' un po' sporcata poi Milan-Empoli partitaccia quella quella veramente partitaccia perché il Milan avrebbe avrebbe meritato qualcosa in più onestamente mentirei se dicessi il contrario perché è stato è stato un assalto continuo però non è riuscito a bucare un Milan chiaramente non 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 proprio al massimo degli interpreti anche perché tanto turnover in vista della Champions League un Milan che era reduce da una bella vittoria e che ha vanificato se vogliamo quella bella vittoria andando poi a perdere due punti con un Empoli ben messo in campo ma troppo troppo distante i termini di valori tecnici e si è visto un Milan che sfortunato sprecone un Milan che porta via un pareggio che serve a poco considerando che poi Roma e Lazio hanno vinto entrambe cioè è stata un po' la settimana delle occasioni perse delle milanesi e della e della dell'ulteriore passo avanti delle romane intanto che l'Atalanta perde col Bologna in casa questa non l'ho vista mi dicono che il Bologna ha giocato molto bene quindi è stata una sorpresa cioè mai avrei immaginato che l'Atalanta in questo momento potesse perdere punti col Bologna il primo è stato il Bologna sta facendo una bellissima stagione intendiamoci tanto di cappello a loro che veramente hanno sovvertito gran parte dei pronostici d'inizio stagione ma l'Atalanta che perde in casa una partita del genere in piena corsa europea non me l'aspettavo è stata forse la più grossa sorpresa della settimana perché mi immaginavo l'Atalanta che potesse andare a insidiare le milanesi è stata un'occasione molto molto sprecata per loro ma sprecatissima perché se avessero vinto adesso staremmo parlando di Atalanta 51 a pari punti colliente cioè sarebbe stata lì ora 4 punti dalla quarta che è il Milan per l'Atalanta si fanno tanti nonostante ci sia tutto il tempo chiaramente per recuperare però è abbastanza si è complicata un po' la vita l'Atalanta con questa sconfitta poi Torino-Roma non l'ho vista anche questa purtroppo avevo altro da fare ma so che la Roma non ha giocato male affatto so che hanno segnato ho visto gli highlights semplicemente nella Roma ho visto gli highlights ho visto il rigore il rigore c'era che io voglio di segnato qualche occasione però appunto basandomi su quello che mi hanno raccontato amici della Roma insomma partita abbastanza abbastanza equilibrata però dove la Roma è riuscita a venire fuori bene a tenere diciamo che la Roma si conferma una squadra fortemente solida in fase difensiva che riesce cioè da quello che ho visto quest'anno guardando quelle partite che ho visto della Roma e appunto confrontandomi con tanti amici della Roma che ho la Roma è una squadra in cui la cosa peggiore che ti può capitare è che vada in vantaggio di un gol perché la Roma quando va in vantaggio di un gol per l'impressione che ho avuto io si chiude a testugine proprio non c'è verso poi e non cercando mai il raddoppio con insistenza come impostazione tattica è una squadra che proprio vive di quel vantaggio e te lo tira fino al novantesimo per cui è una squadra veramente in ottica campionato è veramente ostica è veramente complicata perché per le altre che stanno dietro in questo momento perché andare a prendere punti a una squadra così diventa complesso onestamente così come diventa complesso andare a recuperare i punti a una Lazio così così ben messa così concentrata così stai ordinariamente in palla come è stata quella di ieri sera il 2-1 con la Juve è stato benedetto e devo dire che non me lo sarei aspettato ci speravo come è ovvio credevo che sarebbe stato possibile perché la Lazio quando ha modo di preparare le partite e quando è in fiducia è una squadra che veramente può far male e quest'anno ha fatto male a tutte le big per cui devo dire che è stata l'ennesima bella vittoria l'ennesima bella vittoria di Sarri peraltro che ci fa godere in una maniera surreale ogni volta che apre bocca in qualche intervista una Lazio che adesso ha il dovere però il dovere morale di dare valore alla brutta figura europea andandosi a prendere un secondo posto a prescindere da quella che sarà la Juventus e l'eventuale restituzione dei 15 ha il dovere morale di imporsi in zona Champions affinché arrivino sti benedetti soldi e affinché non ci siano scuse per investirli in un secondo momento eh affinché non ci siano scuse e che vengano investiti tutti i soldi che arriveranno in caso di qualificazione perché questa squadra come dimostra un'annata iper positiva in campionato è mancata solamente nelle rotazioni e se avesse avuto le rotazioni porco tutto staremo parlando di un'altra stagione e io confermo quanto ho detto io sono incazzato come una biscia pensando all'Europa perché questa squadra lo ripeto avrebbe dovuto vincere la Conference con le mani legate dietro alla schiena e lo si è visto in tutti i big match di quest'anno quando la Lazio vuole giocare una partita ad alti livelli lo fa quando la Lazio è concentrata può affrontare gran parte degli avversari specialmente se si parla di Europa minore quindi è un peccato mortale essere usciti ma ripeto la responsabilità io la imputo all'80% alla società che non ha fatto un mercato adeguato ora se noi speriamo cioè io se l'anno prossimo noi andavessimo incredibilmente andare a fare la Champions League e io dovessi vedere nelle convocazioni un solo centravanti ovvero immobile ho la sensazione che potrei incatenarmi da qualche parte ecco lo dico con grande franchezza perché mi auguro che arrivi una punta in sostituzione che il centrocrappo venga rimpolpato che arrivi un regista di caratura internazionale insomma per puntellare una rosa che adesso ha le sue caratteristiche importanti ha i suoi valori tecnici si dovrà credo temo sostituire Milinkovic ma vi posso dire mai come in questo momento con Sarri sulla panchina io sono sereno anche l'idea di perdere Milinkovic l'ho detto ragazzi l'ho detto perché uno che te fa giocare sai come ha giocato ultimamente uno che te riesce a trasformare quella difesa che era un colabrodo nella migliore difesa del campionato è uno che può veramente trasformare in oro ciò che oro non è dunque che arrivi che deve arrivare l'importante è che ci siano uomini scelti da lui però da lui non da qualcun altro da lui cioè lui deve diventare il manager all'inglese deve fare il mercato lui non lo può fare qualcun altro se ti deve scegliere tipo quando vai quando vai dal pizzicarolo vai e te scegli il prosciutto tu lo scegli te ti assaggi vedi com'è cioè voglio dire deve essere una cosa fatta un po' un po' più con intelligenza un po' più corale come non chettare se presenta t'ho comprato il Kosovaro t'ho comprato l'Albanese t'ho comprato eh ti è adesso adesso vascia a vincere il campionato non è così che funziona ad alti livelli per cui mi auguro che tutti ne stiano acquisendo consapevolezza di questo aspetto perché questa Lazio è una creatura quest'anno delicata è una creatura potenzialmente meravigliosa nel corso degli anni che va che va gestita con un po' più di lungimiranza perché ovviamente adesso in questa fase gran parte degli ambienti in cui si parla di calcio stanno svilendo il traguardo della Lazio di quest'anno che è quello di imporsi nei primi posti è però l'Europa è però ma che deve fare con sta squadra ma anzi che stavamo secondi che c'eravano tutti per morti all'inizio stagione io compreso non è che fossi proprio dopo un'annata dell'anno scorso sì mi fidavo di stare come ripetevo in maniera ossessiva ma ero un po' preoccupato dalla composizione di una rosa che era chiaramente mancante in molti aspetti la Lazio di quest'anno ha dimostrato che veramente c'ha del potenziale quel potenziale va sfruttato una squadra che becca 20 gol in 29 partite è una squadra che c'ha qualcosa di più di quella dell'anno scorso sotto tanti punti di vista per cui mi auguro che chi di dovere intervenga affinché si possa costruire su questo su questo meraviglioso inizio per magari andare a fare qualche anno di Champions una pressa all'altro che possa dare continuità e vita a un progetto che sia un po' più ambizioso dell'annamo in Champions ecco vorrei vorrei che la Lazio tornasse a giocarsi qualcosa di più dell'annamo in Champions ecco perché 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 se lo può permettere secondo me con la base che si sta creando con un allenatore che onestamente ha fatto star sì a un sacco di gente si è levato un sacco di soddisfazioni e tante mi auguro anche e soprattutto per lui che possa levarsene al di là del discorso Lazio cioè Sarri è proprio lo specchio del non so come dire c'è un uomo che ha sempre lavorato a testa bassa senza far il fenomeno che è stato comunque bersagliato comunque massacrato comunque svilito a volte umiliato senza averne colpe e che nonostante ciò continua a raccogliere buone buone cose ma nonostante le buone cose sembra che non basti mai è proprio lo specchio di quello che accade da tante volte in questo meraviglioso paese ma mi auguro per Sarri ancora prima che della Lazio che lui possa continuare così poi è ovvio essendo il nostro allenatore mi auguro che possa farlo farlo in maniera sempre più 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 convincente sulla nostra panchina ecco se si potesse godere in due sarebbe ancora meglio detto ciò ragazzi io vi saluto vi do appuntamento ai prossimi giorni ancora buona pasqua godete questi giorni di pausa e di relax augurandomi appunto che tutto possa andare per il meglio a tutti quanti non vi incazzate troppo questo lo dico anche a me stesso e niente noi ci aggiorniamo appunto in settimana con la Champions avremo tanto di cui parlare speriamo appunto di poterne parlare con una vittoria dell'italiana sicuro Milan e Napoli si festeggeranno comunque l'Italia speriamo che l'Inter possa fare una bella figura e magari avviarsi verso un'andata importante e speriamo che succeda lo stesso anche sulle altre squadre che saranno impegnate in Europa io le altre squadre magari ecco la Roma un pochino meno perdonate un pochino non mi fate fare ipocrita un pochino meno saremo un po' meno partecipi ecco nella partita della Roma vabbè ciao ciao ciao